Sabato 24 febbraio alle 20 e 30 al Teatro Mediterraneo torna un mondo di solidarietà, la nuova edizione dell'evento benefico diretto da Diego Di Flora per raccogliere fondi a sostegno dei piccoli pazienti del Santo Bono. Condotto da Maria Mazza e Gianluca Impastato, lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco tanti artisti con Maria Grazia Cucinotta come madrina e Mario Biondi ospite d'eccezione. Uno spettacolo ricco di sensazioni emozionanti da parte degli artisti perché sono cantanti comici che si alterneranno sul palco, cito ovviamente la special guest che è Mario Biondi, siamo molto contenti che Mario ha accettato il nostro invito, tutti uniti per la solidarietà. Su richiesta espressa del sindaco e sul mio appoggio ovviamente ha voluto dare completamente gratuito il Teatro Mediterraneo. Credo che sia l'evento più importante nella nostra città veramente di beneficenza perché partecipano tutti in maniera completamente gratuita e perché il contributo, che è un contributo importante quest'anno, si aggira intorno ai 30 mila euro. I proventi della serata saranno devoluti alla Fondazione Santo Bono Pausillipon per l'acquisto di un elettromiografo di superficie per la diagnosi delle patologie neurologiche e ortopediche dei bambini. L'obiettivo di questa serata è l'acquisto di un elettromiografo per la valutazione dei bambini con patologie neurologiche e ortopediche. Sono diversi anni che un mondo di solidarietà è vicino ai nostri bambini, al nostro ospedale fortunatamente, con tutta la città di Napoli, con questi artisti che si esibiscono gratuitamente solo per migliorare la qualità di vita dei nostri piccoli pazienti.